World Trade Spa è nata nel 1993, fondata da me e a distanza di 19 anni ha coperto sempre il settore dell'Information Technology. I primi 12-13 anni sostanzialmente con componentistica per l'assemblaggio del PC, negli ultimi 6-7 anni abbiamo portato l'azienda a lavorare prettamente sul mercato industriale, kiosk Information, Digital Signage e anche Gaming, dove oggi appunto esponiamo la manifestazione dell'ENADA 2011. Come dicevo prima, negli ultimi 5 anni siamo stati sempre di più improntati al settore industriale e al settore del gaming. La nuova sfida di portare la società a livello europeo lo stiamo già facendo da circa 3 anni.